Tutto sta in una parola, immersione. Immergersi nella lingua in realtà è qualcosa che possiamo fare senza prendere nessun volo, senza dover affrontare un viaggio, senza dover affrontare i corsi di un trasferimento. Immergersi nella lingua è qualcosa che possiamo fare anche tranquillamente da casa nostra, attraverso la lettura, attraverso gli audio che ascolti, attraverso i film e le serie tv che guardi, attraverso i contenuti di cui vai a fruire, attraverso delle scelte che fai nel tuo quotidiano. Quindi scegliendo di circondarti della lingua inglese, questo funziona senza dover per forza fare i bagagli e andare domani a trasferirti in un paese anglofono. L'importante è il voler circondarsi ed immergersi nella lingua. Allo stesso modo andare in un paese anglofono e fare esattamente la stessa cosa, quindi sfruttare qualsiasi situazione possibile ed immaginabile per praticare la lingua, ovvio che funziona, è ovvio che ha degli effetti estremamente positivi sul tuo processo linguistico, ma abbiamo detto che non è fattibile per tutti e quindi ecco che c'è un'alternativa altrettanto valida per portare l'immersione a casa tua. Quindi basta semplicemente volerlo e decidere di immergersi nella lingua. Grazie.